Lui è il tizio del soffiafoglie. Chi? L'uomo dalle guance ondulate. Quindi? Il suo video ha un milione virgola 3 di cuori. Baby! Perché non mi hai detto che era alla presenza di un genio? Offrigli da bere. Sì, è una certa Shank che ha fatto quel video ed è stata lei che ci ha consigliato di venire a cercarti. Non mi sorprende che il tuo video sia così forte. Shank è davvero super. Vero? Non direi. Sono io quello super che riceve i cuori. Beh, ma certo, guanciottone, guardami. Scusa, come hai detto che ti chiami? Ralph. Ralph spacca tutto. Beh, Ralph spacca tutto. Tu fai tendenza e questi sono per te. Cuori, 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 cuore, 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 cuore.